Benvenuti e bentornati sul mio canale, quest'oggi siamo di nuovo a Milano per una sfida con questi super ospiti Un applauso, abbiamo qui con noi, non Gigio ma il fratello, Antonio Donnarumma Abbiamo il sosia di David Beckham Che mi va Bobo, che mi va Bobo, a ne pascià Bobo Abbiamo Mura, giocatore spaziale, tiktoker, youtuber, influencer, quello che volete Io, ciao figlio, la maschera, super tifoso del Torino Direttamente da Luganda, Michael Bognardi, giocatore di quarta mila categoria Grandissimo Di nuovo qui con noi, che ha annullato il tour Fred e Palma Io, 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 ci siamo, ci siamo E poi è tornato, qua sul nostro canale, il boss delle torte Ho portato una cheesecake, raga, che è una bomba Ragazzi, in cosa consiste la sfida di oggi? Prima di dirvelo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tutti quanti Attivate la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati 10 tiri a testa, 70 tiri totali Passeremo, ragazzi, passeremo capodanno insieme Ok, e siamo solo al 29 di luglio Ragazzi, saranno 5 tiri, il primo slot, 5 tiri il secondo Chi vince, porta a casa la cheesecake del boss delle torte E partiamo Primo tiro della giornata, vado col sinistro e destro, lo riscaldiamo dopo Bernardeschi Bene, andarti vicino quando sono a boccia Vabbè, Ale, ma monta le mani però Vabbè, ragazzi, andiamo a due Voglio anche non tirare, Sara, i gol Così proprio Era questo Vai, 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 vai Due gol su cinque E i due gol che ha fatto con due rettropattaggi Bravo, Sara Mi sono anche strappato Vabbè, quando vuoi calciare... Parte lui, l'io del Messi Ora c'è il portiere Ora c'è il portiere Sì, è arrivato Amazon Ah, ecco, vedi Sali Sì, è la quinta Wow, è un piazzato Due Questo è bello Wow Wow, non sono fatti Crivido Così brava insta-keeper Wow Wow Peccato Sì, è un piazzato Vabbè, è un piazzato Non ti si fa, forza troia Guarda Vai Vai, tirami un'altra assistenza Le due Oh Mamma mia Vai, tirate tutte fuori Dai, sopra la barriera No Brutto Oh, Anto, non correre troppo Che sto distante Grazie Sì 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 Sì, mi inquadra Senti i gatti qua Bello Mamma mia Il bug che ti butti L'ho riscaldato Un applauso al boss Che non era semplice Pgliare zero traverte Ecco, Antonello, guarda qua nel partito Bella Rezze Ti conosco poco Bello Che fiducia Un po' che è il polpaccio Oddio mio Bravo Bravo Che bello questo Bravo, Anto L'ultimo tiro Si parte lo stesso Sì, tieni Questo è il momento giusto Oh, eh Che strano Bravo Bucai, bucai Ah, questi gol Questa è la sua macchinetta Oddio Oh, Antonello Mi hai fatto che ho passato di no con le mani Regolamento Dai Oh, è un gol Bello Molto andò A muto Oddio Oddio Oh, la, con i pugni Sì, per rischiare Oddio Oh, ma che bello Ogni tuo video Ragazzi Miglioro sempre di Dai, alle 6 minuti Non fa 5 Uno Un'azione Zio Petra Vabbè, oh, le prese dopo E' il riscaldamento Ok, Zio Petra Questo è una Bello Uno ci sta Uno sì No, mi sa che non ce l'ho Dove ci andare? Quando vuoi E' tutta tua Ma che siamo venuti a fare? Io non lo so E' ciù E' stai Alto Alto No, anche i due sto fuori no, eh Alto Parte lo stesso Oh, non era semplice Tre su tre fuori, eh Aspetta, com'è che era? Su, su, lancio Salite Salite No, anche questo fuori di là, no, eh Bello No Bello, eh Dai che vai a uno Bello 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 Cioè, il boss viene invitato ai video Il boss viene invitato ai video E deve andare in giro a prendere i palloni Ma dov'è il rispetto? Cioè, non capisco Uno sta lamentando Dice Ma che è il suo, il canale? Secondo giro No, ora è che ti è tornato Ecco il gol Bello 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 Due Uno sta Oh, Gigio Portacci tua Tu ci fuori 3 gol su 5 nel secondo slot Pierre spera Si classifica con 4 gol Vai, fino a casa Annamena Tieni Oh, oh Oh, oh dai Ale tranquillo calma eccola ballo dai farò il personello questo è un gol tranquillo mamma mia mamma mia ragazzi buono buono l'ho sempre messa nello stesso punto della rete sali vai come riflette poi bello questo e dopo il quattrocentesimo santoottesimo ragazzi se Maschera fa quattro gol vince la sfida poi tocca a me attenzione questo è un euro goal me lo sento che vai a due bravo Ale la mia palla sali l'ultimo per il pareggio sei a tre gol totali attenzione Donnarummo cosa c'è mi servono due gol per pareggiare tre per vincere this is for you bello ragazzi forse spareggio spareggio ai rigori Antonio Donnarummo in porta il primo che sbaglia perde dai Anto no ha parata la prima no mamma mia ragazzi l'alletta proprio bella parata calma calma applauso per Gigio Donnarummo bravo bravo vabbè non era semplice calciarla fuori nel rigore decisivo siiii bravo e niente bravo bravo ragazzi complimenti complimenti c'era spera che per la millesima sfida sul mio canale vince sempre lui siiii bravo ragazzi aspetta calma oh un applauso per Donnarummo che non era facile sbagliare il primo rigore io poi nei suoi video non ho mai sbagliato tranne due volte è giusto ragazzi ringraziamo tutti quanti ringraziamo Mura ringraziamo il boss del freestyle ringraziamo Michael da Luganda ringraziamo Fred De Palma ringraziamo Lionel Messi ringraziamo la Pimpa e ringraziamo Sommer ragazzi iscrivetevi al canale trovate il link in descrizione di tutti i nostri social noi ci vediamo al prossimo video e come volo e come volo